Tu ti chiedi mai se siamo felici o solo tranquilli. Guido e Chiara hanno una relazione messa in crisi dalla possibilità che lei sia rimasta incinta. Mentre Guido si sente pronto per la paternità, lei ci vuole pensare. Nell'attesa Guido va via di casa, ottenendo ospitalità dai genitori e amici. Duccio Chiarini fa ancora centro e riesce in una grande impresa. Trasformare un saggio di sociologia in un film. Attraverso toni leggeri ma profondi, il regista ci rivela la complessità dei rapporti, l'ansia di instaurarli e il timore di restarne impigliati. Come accade a Chiara, in crisi, perché teme la fine della passione. Anche a casa dei genitori di Guido la passione si è spenta, ma l'unione resiste grazie alla forza di un legame che supera i dissidi quotidiani. Dissidi di fronte ai quali la generazione che Chiarini porta sullo schermo è assolutamente impreparata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.